A Natale io la preparo così, rucola. Formaggio. Olio buono. Un'idea semplice e veloce per presentare l'insalata a Natale. Vi è piaciuta? Fatemi sapere nei commenti. Non ti raggiungo non c'è nessuno? Che ne faccio ya che? Che ne faccio lì? No! Non c'è nessuno. E nessuno ha iniziato. Grazie a tutti